Ciao amici di YouTube, oggi parliamo di felicità. Vi piace l'argomento? Cosa dite? Sento che qualcuno di voi ne ha quasi paura. Sento altri che non sono molto in confidenza con la felicità. Sento che per qualcuno è solo un lontano ricordo e c'è chi dice che non l'ha mai conosciuta. Possibile? Sapete cosa penso? Che la felicità dovrebbe essere insegnata a scuola da piccoli. Dovrebbe essere una materia scolastica. Immaginate che bello! Amore, che materia hai domani? Le prime due ore italiano, poi inglese e alla quarta ora felicità. Ma hai fatto i compiti? Ti sei esercitato a essere felice? Hai applicato bene le strategie che ti ha insegnato il professore? Guarda che è importante più dell'italiano e dell'inglese, non sottovalutare la materia. Se impari come essere felice adesso, potrai sapere come essere felice tutta la vita. Ma sì, mamma, lo so. Sei fissata con sta felicità. Ah, ma questi ragazzi non si rendono conto della fortuna che hanno di studiare felicità a scuola. Ai miei tempi non si faceva e si vede il risultato. Io non so bene come essere felice. Non ho ancora capito cosa mi rende felice. Sì, non a tutti viene spontaneo essere felici. Lo capisco, ma la felicità si può imparare. E anche voi oggi, se vi fa piacere, farete una lezione di felicità con me. Siete felici? Io sì, di potervi parlare. Cerchiamo di esserlo insieme. È un buon inizio. In questa lezione imparerete due segreti e tre strategie per essere felici a lungo termine. Sì, perché la felicità non deve essere un appagamento momentaneo, ma uno stato di gioia interiore, come spiego in questo video, che vi consiglio di guardare dopo. Adesso immaginate la felicità come una tavola imbandita, un grande buffet. Ci saranno tanti manicaretti messi apposta lì per riempirsi il piatto con tanti sapori diversi. La felicità è mettere nel piatto le cose che ci piacciono di più, che ci rendono felici. Il cibo è fatto per essere mangiato, altrimenti va a male. Questa storia della tavola imbandita mi ha fatto venire fame di felicità. Vai avanti! Sì, ma prima delle tre strategie vi voglio rivelare il primo segreto della felicità. Per essere davvero felici sempre e a lungo termine, per prima cosa bisogna prendere una decisione. Ah, bisogna decidere una cosa sola? Sì, decidere una sola cosa è questa. Decidere di organizzare tutta la propria vita in funzione della felicità. E come si fa? Io l'ho organizzata in funzione dei miei impegni. Ti capisco, ma anche i tuoi impegni possono renderti felice con la giusta prospettiva. Essere felici non significa non avere impegni o vivere solo per soddisfare i propri desideri egoistici. Intendiamoci bene. La felicità è uno stato di positività e appagamento che noi riversiamo nelle cose che facciamo. E non viceversa. Non sono le cose materiali a renderci felici, ma l'atteggiamento che abbiamo nei confronti di queste cose. Comunque, per essere sempre felici, bisogna fare in modo che nel nostro piatto del buffet, pieno di tanti cibi diversi, non manchino mai tre particolari ingredienti. Sono quelli da tenere sempre presenti nell'organizzazione della nostra vita. 1. Prima di tutto, per essere felici, bisogna essere convinti di meritare tutti i piatti del banchetto, anche i più esclusivi, di meritare la felicità. Tutti meritiamo la felicità. A volte sento dire che per essere felici bisogna essere egoisti o superficiali. Non è così. Quando mio marito dice che nella vita bisogna essere felici e se ne esce, io gli dico che è un egoista. Immagino, ma se parliamo della vera felicità interiore, stiamo parlando dello stato più elevato della nostra esistenza. Solo una persona felice può rendere felice un'altra persona. Quindi essere felici è socialmente utile. Non avrei mai detto che era socialmente utile. Devo rivalutarlo? 2. La felicità non piove dal cielo e non è questione di carattere. La felicità è una luce che abbiamo tutti dentro di noi e che si accende quando sentiamo che stiamo esprimendo le nostre capacità e i nostri talenti. Aspetta, non capisco. Le capacità e i talenti servono a lavorare. Cosa c'entrano con la felicità? Segui il ragionamento. Più esprimiamo le nostre capacità, grandi o piccole che siano in qualsiasi campo, più rispettiamo e apprezziamo noi stessi. Più sentiamo di meritare le cose buone del banchetto e più possiamo aprirci alla felicità e accendere la felicità dentro di noi. Non fa una piega, vero? Oh, liscio, liscio come le camicie che stiro a mio marito. 3. La terza cosa da fare è imparare ad ascoltare la voce interiore per essere sempre coerenti con noi stessi, ma ogni giorno, non una volta per tutte. Oddio, adesso c'è la voce interiore che parla, ma io non la sento. Come faccio? Quando sei al banchetto, ascolti i tuoi gusti e poi metti il cibo nel piatto, vero? Ecco, hai ascoltato la voce interiore. Certo, quando si tratta di cibo è facile seguire i propri gusti, ma il principio è lo stesso. Se nella vita sapremo ascoltare la voce interiore che sa quello che ci rende felici, sapremo scegliere le situazioni, le relazioni, il lavoro guidati dalla luce della felicità. E sono sicura che chi vive così si trova ad affrontare meno complicazioni e problemi, quelli in cui spesso ci cacciamo da soli per non aver ascoltato la voce interiore, la voce della felicità. E ora in questa lezione di felicità vi voglio svelare un altro segreto. Ma prima fatemi felice, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E per tanti altri spunti sulla felicità, la crescita interiore, la salute naturale, iscrivetevi al mio canale con un facile clic e attivate le notifiche. E ora ecco il secondo segreto, il segreto finale. Ricordate sempre che per vivere una vita felice bisogna essere disposti a pagarne il prezzo. Oh no, questo suona malissimo, mi aspettavo il dolce alla fine del buffet. E tu ci servi l'amaro? Sì, perché l'amaro fa digerire tutto il banchetto e infatti lo consiglio sempre come naturopata. Sarete d'accordo con me. Tutto ha un prezzo, anche imbandire una tavola. Essere felici non è fare sparire le difficoltà. Se seguirete i tre passi che ho spiegato, le difficoltà diventeranno un anticipo sul prezzo della felicità. E i problemi potranno essere grandi opportunità, come spiego in questo video. Ora, se volete fare felici anche i vostri amici, condividete questo video sui vostri social e scrivete le vostre domande e i commenti qui sotto. Sarò felice di rispondervi. E noi ci vediamo al prossimo video. Posso esserci anch'io? Ma certo, naturalmente. Ciao! Quando mio marito mi dice che nella vita bisogna essere felici, io gli dico che è un egoista.